I cavalli sono in partenza partiti lungo la corda Lethal Blonde per un attimo in vantaggio poi è Atto Pinale che passa in vantaggio in seconda posizione all'esterno Olympionic seguito a largo da Paul Bruce in quarta posizione all'interno si sistema Lethal Blonde davanti a Young Junior con in coda Kentucky Beads comunque gruppetto ben riunito dopo i primi 400 metri di corsa con Atto Pinale che viene avvicinato all'esterno da Pam Bruce che gradatamente lo sopravanza all'esterno in terza posizione risale Kentucky Beads davanti a Young Junior quindi Olympionic e Lethal Blonde che scivola in coda cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Pam Bruce che è passato al comando Kentucky Beads che si propone al suo esterno in terza posizione Atto Pinale con ai pianchi Jungle Junior quindi Olympionic con in coda Lethal Blonde gruppetto sempre ben riunito lungo l'arco della curva alle spalle di Pam Bruce che è il leader e che sta per affrontare al comando la retta d'arrivo sempre con all'esterno Kentucky Beads che poi si sposta al centro pista tra i due cerca spazio Atto Pinale in quarta posizione all'arco Jungle Junior per linee interne rimane Olympionic e all'arco di tutti Lethal Blonde siamo a 450 dal palo Kentucky Beads è all'attacco di Pam Bruce e sta passando in leggero vantaggio Pam Bruce cerca di resistere al suo interno a centro pista progredisce Lethal Blonde con all'interno Jungle Junior quindi Atto Pinale siamo a 200 dal palo con Kentucky Beads che è passato sotto la pressione esterna di Lethal Blonde quindi due si staccano in lotta nel tratto finale Kentucky Beads sta mantenendo saldamente la meglio su Lethal Blonde che è secondo davanti a Pam Bruce Atto Pinale andiamo a rivedere le immagini con la bella affermazione di Kentucky Beads numero 7 dello schieramento che si impone nettamente mentre per il posto d'onore il 3 di Lethal Blonde precede l'1 di Pam Bruce quindi 7-3-1 il probabile e un piccioso arrivo della seconda di Napoli grazie a tutti